Ciao ragazzi, namaste. Questa è la nostra casetta del club. Facciamo un po' di pubblicità. Flyly Bell, scuola di parapendio. Aspetto che atterrano i miei amici. Io volevo venire a volare ma mi son beccato una multa e sono andato a pagarla subito, che sennò poi dimentico. Porca troia, 71 euro. Questo è l'atterraggio. Guardate com'è lungo. Qua atterrano anche aerei ultraleggeri. Lì in alto, lì, è il decollo. Non so se si riesce a vedere in aria. No, non si vede nessuno. Magari quando a terra faccio un altro video. Cazzo fa un... ma non è freddo, non è freddo. Fa un... cazzo di umidità della madonna. Troppo umido. Ecco, vabbè, dai. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, guardate che meraviglia. Che bello. Sto tornando a casa, mi son fermato a godermi la pippa, poi vado a casa. E... niente. Guardate. Troppo bello. Ciao.